60 anni. 60 anni. Tutti miei. Mi scusi ma lì è tutta rifatta? Ma come se permette che ti dica che io sono tutta? No, perché è incredibile. Qual è il segreto? La cosa importantissima è il buon umore. Il buon umore? Il buon umore. Qualche trattamento però c'è insomma. Si è piaciuto sempre. Questo è un trattamento anti-aging che stimola il collagene. Questa è una delle tante palestre gratuite all'aperto di Miami, sempre affolatissime. Ma va, 74 anni, sembra un cinquantenne, è pazzesco. Wow, mi sento un ragazzino e mi alleno quasi ogni giorno. 20. 25. 25. Every day you run? Every day. How much time? I ran six miles this morning. He's going down though. He's aging backwards now. Qui si lavora sulle cellule staminali e qui tentano di farle ringiovanire. Che sono quelle cose che si vedono di? Sono cellule staminali in cultura e sono una dimostrazione che noi possiamo ringiovanire le cellule. Voi state studiando il modo per ringiovanire? Assolutamente sì. Facciamo tornare l'orologio biologico di queste cellule indietro, fino a quando erano un embrione. E come si fa? Ah, c'è un trucco. E se trasferiscono mitocondri giovani nelle cellule di un anziano, possono veramente rigenerare la funzione energetica e l'età biologica di quelle cellule nell'anziano. Forse addirittura per portarla indietro. E dunque, vitamine C e D3 per essere a 68 anni come David. Omega 3 per essere a 76 come Rob, a cui riveliamo un segreto. Le magiche molecole che attivano le sirtuine. Delle pillole semplici ed economiche che potrebbero, insieme ai polifenoli, allungarci la vita. Ma soprattutto, guardateli bene. Bisogna alzarsi in piedi. 70! 70! Fantastico! Congratulations!